100 teste per un progetto di città, persone che dalle loro professioni, dalla loro esperienza quotidiana traggono pensieri, idee per una città nuova e più vivibile. Montecchio Maggiore deve crescere, deve crescere bene, in qualità, non in quantità. Questo è il mio pensiero e questo è quello che anche spontaneamente hanno detto queste 100 persone, amici delle più disparate provenienze che hanno regalato alla nostra città alcuni momenti di riflessione e un sacco di belle idee, belle idee che farò mie nel programma amministrativo per i prossimi 5 anni, per un'amministrazione che si avvicina alle famiglie, alle persone e ai loro problemi. 100 teste per una città più bella. Vita nuova L'alba De un sole mais spento Vita nuova Sonho Dentro me L'alba 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 L'alba